Adesso dobbiamo concentrarci su quel terzo polo della struttura dialettica, l'aufebung, il superamento, superamento di tutto, delle tesi e delle antitesi, delle premesse buone e delle critiche. Oggi qui noi, io non lo trascuro affatto, ci sono dei movimenti di protesta, la mia sicurezza era preoccupata, mi sollecitava, Presidente ci saranno, andiamo. È giusto, è giusto che si abbia una visione articolata e dialettica, però oggi io dico anche a chi sta protestando e a tutti quei cittadini intellettuali che hanno grandi perplessità su quest'opera, concentriamoci sull'obiettivo, dobbiamo augurarci tutti che funzioni. Noi non abbiamo progettato quest'opera, siamo arrivati all'ultimo miglio. Una politica responsabile di fronte all'ultimo miglio, di fronte ai miliardi, più di cinque sono stati ricordati che sono stati spesi, si assume la sua responsabilità, le proprie responsabilità e decide che con un ulteriore sforzo finanziario quell'opera si completa e ci si augura che funzioni. E noi ci stiamo augurando adesso, siamo tutti in trepidanti attesa, speriamo che possa quindi realizzare questa sua funzione. Ovviamente l'opera andrà completata, ci saranno tutti i collaudi poi formali, ci saranno tutte le opere connesse, la completeremo nel 2021, però, lo posso dire, noi abbiamo anticipato anche i tempi. Se questo funzionamento risponderà alle nostre aspettative, noi il prossimo autunno, il prossimo inverno avremo quello che avevamo promesso, anche in anticipo rispetto al 2021, quando siamo venuti qui il 12 novembre e abbiamo assunto questo solenne impegno. dobbiamo evitare che si ripetano quelle scene che noi abbiamo visto, perché non bastano poi risorse finanziarie. Mi fa piacere che il sindaco Brugnaro l'abbia ricordato, abbiamo anche lì mantenuto fede alle promesse, credo all'incirca 106 milioni, più adesso stanno arrivando anche cospicue risorse finanziarie dall'Unione Europea, dalle istituzioni già deliberate europee. ma non è in quel modo, non è intervenendo in sede di riparazione, in sede risarcitoria che si possono risolvere i problemi. Dobbiamo veramente evitare l'acqua alta, perché l'acqua alta distrugge la vita sociale, economica, il tessuto produttivo e mette a grave rischio. Io ricordo l'acqua alta nella Basilica di San Marco, veramente rischia di rovinare e deturpare questo meraviglioso patrimonio artistico, architettonico, storico.